Nuovo video e quindi nuova challenge! Alt! Se vi aspettate un video con un semplice rampino, beh, non è questo! Abbiamo creato una lista di sfide da fare e quello tra di noi due che farà più quest verrà poi etichettato come il vincitore della challenge! Prima di iniziare andate qua sotto nei commenti e scrivete qual è il vostro supereroe preferito su cui vorreste che noi facessimo la nuova challenge! Pochissime ore fa è uscita una mod che ti fa vestire i panni di Spider-Man su Fortnite! Praticamente è una hack che ti permette di avere questa skin! Noi quindi abbiamo deciso di buttarci e prendere la pala al barzo e fare la Spider-Man Challenge! Non utilizzeremo però questo hack, questa mod skin perché non sappiamo ancora se ci sarà una punizione o un ban per chi la usa visto che non è stata rilasciata da Epic Games! E adesso noi ci buttiamo! Stiamo andando nella nostra New York! New York! Avevo scritto New York! E sto facendo l'intro bellissima! Tu provieni tutto! Guarda come ti sei tutta nera! Ma non sei Spider-Man, sei Venom se ti vesti tutta nera! Io sono Black Spider-Man, faccio ancora più paura! Invece te sei quello cinese con il vestito scolorito! Eh certo! Oh, ho spesso i soldi per le ragna... Oddio! Non c'è nulla qua! Solo queste posso usare! Pura cappola! È un assalto che non posso prendere! Mi servono armi più da vicino, armi silenziate! Io mi so preso la Kimbo! Sotto c'è uno, sotto c'è uno, c'è uno, un'arma! Eh, infatti io c'ho il nonno! Però non lo prendo, dai! Non c'è roba con uno Spider-Man perfetto! Meglio uno Spider-Man perfetto che uno Spider-Man moto! Riportalo! Da noi è arrivato qualcuno! Eh, che famo! Che finiamo qui dentro! E' sotto? Pam! Pam! Tu me sono la ragnatela! Faccio la rifatita tutta la vita! Vieni! No, potevamo controllarla! Adesso sì che si rasola! Ho la mia ragnatela! Pss! Pss! Uh! 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 Vieni, vieni, vieni! Che succede? Vieni, vai! Ah, ok, citiamolo! A dritto! Marta! Dai, dimmi che c'è! C'è la mia arma di Spider-Man! E' mia! Bande, sono mia! C'è Spiki se le vuoi! Direi che Spider-Man non è un tipo tanto esplosivo! Ha più un tipo che trolla la gente, la percula e è molto stealth! Qua sotto il nemico! Vale, gli spacco qua! Volata via! Quella si cavalla del buone ragnatela! Viamo le nostre! Allora, a me in faccia così non mi sciviene, ti tiro una ragnatela cancerogina, ti sciolgo neanche l'acido! Non so se l'hai capito! Ma, eh, dov'è la sua roba? Eh, boh, è esplosa anche quella! Perché le polverizzate? Psss, 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 tanto tu non hai questo! Non hai il vero fucile di Spider-Man! Hai visto? Un pezzo del nostro puzzle è completo! Ho trovato il zucca al mirtillo! Quello che ti lubrica le ragnatele, se no ti scattano! Tieni, guarda, ne ha avanzato uno anche per te! Dovevi sapere che Spider-Man è così bravo a ondeggiare con le ragnatele perché beve tanto sul calmettino! Chi legge i fumetti... Il nemico, il nemico, il nemico! Vai avanti a me, vai avanti a me! Dove, dove, dove! Passa e basso! Oh, che cazzo è successo? Mi hai schiantato l'altro muro! Eh, ragazzi, ho un po' di problemi tecnici, ma... Scusate, ci ho messo un po' a lubrificare, perché mi aveva dato un solo succo! Merda! Merda è la vita che ho! Minchia, è la vita che hai te! Arriva uno con l'acquino! Sì, ma, cioè, capisci che... No, lasciali perdere! Lutiamo! L'ho visti! Troviamo delle cure! Oh, non ci sono cure! Zero! E vabbè, viviamola così, alla giornata! Non è il momento di ballare! Attiro i nemici con la stupidità! Il rapino! L'ho trovato! Mi suicido, ho tutta la sua, non ho da prendere! Non sa mai... Ma che strutto ci vuole arrivare prima la vicinanza! Tieni! No, usalo tu! Tentato, te lo lascio! Ale, fatti la boccia, tieni! C'è una cesta! Sopra! Scaracca! Non si può usare! Via dalla mia vista! È già il secondo! Addio! Addio, piccolino mio! Ti vedi? 120! Io non ho salti, ovviamente! Dimmi quando gli tiro le pulse! Ora! Certo! Era proprio... Il momento profizio! Gli altri sono al lago! È chiuso, ecco sotto di me! Ecco per te il rampino! Spider Pork! Spider Pork! Il robot! Io ti porto! Ma dove sono? Ah, nord e sessanta! Uno dietro l'albero, vicino all'albero e una bagnina! Merda! Mi sono affesa a lei! Mi ne trovo un altro! Lei è quasi morta! Anch'io! Bam! Ciao a tutti! Veloce, veloce! Build, build a spider! Mi ha fatto delle acrobazie bellissime, eh! Ma non ho dato neanche un hit! Però una delle quest era l'attaccazione di fuorampine! Si sono attaccata ripetutamente e ho usato pure l'impact! Sto volando, mamma! Sto arrivando da laggiù! Dove eravamo tutti, dove eravamo noi! Dove eravamo noi! Vieni! Buon fan, non capisci quando è il momento di battere ritirata! Avete lasciato un medikit da qualche parte! E infatti stavo andando a vedere quel loot! Sì! Bande, bande, bande! Mi stanno fightando, quindi il veloce! Sto correndo! C'è anche la tua arma! Grazie, grazie! Insomma c'è un altro rampino! Uh, questa è perfetta! Merda, ce l'è nemmeno davanti, sotto! Al rampino, eh! Hai visto! Arrivo! Vai! Chiuso! Ho preso una facciata sotto di me! E sotto! Bam! Valle lì in faccia! Trova! Guardi qua! Allora, lo vedi sulla montagna! Merda! Anche dalla torre! Avviciniamoci come dei veri spider pork! Chi ha detto che io sono pork? Scusami! Eeeh, tutti nei commenti! No! Ho preso un albero! Le foglie! Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! Ho detto! Crepa male! Ragnatelizzato! 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 Morto! Bravo Peter Parker! L'hai fatto però la foto da mettere domani sul giornale? Eeeh... Licenziano, eh! Devo fare ancora tante cose! Sta chiudendo! Eccolo! Eccolo! Eccoli! Io ho preso che non volo! Volano, volano questi! Questi ci vogliono! Vieni qua! Vieni qua! Raffine! Concluso! In giulato! Dov'è l'altro? Vai dietro di me! Ok? 165! Va bene! Va bene! Io ti trappo stronzo! Io ti trappo! Trollalo! Trollalo! Fagli male! Fagli male! Guarda questo come ti odio! Guarda il compagno come ti odio! Chi è che spara altri? Io non ho cazzo di vita, eh! Attento, attento, attento! Fammi curare! Lui sta prendendo l'altezza! Fagliela prendere! Fottitene! Gli spacco tutto io! Gli spacco tutto il compagno come ti odio! Ha ucciso! Vai! Vieni sotto! Vieni sotto! Vieni sotto! Sì! Si è rampinato! Ha fellato due volte il rampino! L'inseguimento con il rampino? Che cazzo è? Ma è sul tempo del... Ma me l'aspettavo qui! E la sua volta è finissima! E poi ci sono anche altri, cazzo! Un altro solo che non c'entra... Nulla! Ho passato la vittoria! E ovviamente è colpa di Sound! Che si è fatto distrarre dalla facecam! E quindi pensavo a quella! Mannaggia, mannaggina! La vittoria era proprio vicina, vicina! Però non ce l'hai fatta conquistarla! Ma soprattutto non sappiamo che è il vincitore! Perché siamo 5 punti! A 5 punti! Questa Spider-Man Challenge! Quindi tocca a voi decidere Chi dei due ha usato il vestito Che più si avvicinava a quello di Spider-Man! Carburo Sound che era blu come... Blu di Spider-Man! Oppure Nero! O venga con tutte le rifinite! Spider-Man Nero! Era Venom! Era Riven! Nulla! Votate Sound! No, assolutamente no! Sempre solo The Lionel e ricordatelo! Stai zitto! A presto, prestissimo con un nuovo video! Ciao ragazzi!